Angelina Mango è stata protagonista dell'Eurovision 2024. La sua esibizione ha infiammato il palco e l'Italia non può che essere fiera di lei. Dal serale di Amici al palco dell'Eurovision, questo il salto artistico fatto da Angelina Mango. La cantante è entrata a far parte lo scorso anno della scuola più famosa della televisione italiana, e da quel momento tutto è cambiato. Dopo il talent il successo ha stravolto la sua vita, regalandole momenti unici. La vera emozione è arrivata quest'anno con la sua partecipazione e la vittoria del Festival di Sanremo. Angelina ha preso parte alla gara con il brano La Noia, dimostrando durante le cinque serate, una professionalità artistica eccellente. Come da consuetudine per i vincitori, è stata data anche a lei la possibilità di partecipare all'Eurovision 2024. Angelina Mango subito dopo LSIBIZION e sul palco. Una grande responsabilità per la giovane cantante, un momento che di sicuro resterà per sempre nel suo bagaglio di vita personale e professionale. Angelina si è preparata al meglio durante questi mesi per poter rappresentare l'Italia in modo impeccabile ad un evento di altissimo livello. Prove e grande costanza hanno permesso alla cantante di affinare la sua performance. La Noia continua ad essere una delle canzoni più ascoltate dopo la fine del Festival. Ieri sera è andata in onda la finale dell'Eurovision 2024, che ha visto stilata una classifica definitiva. A trionfare è stato Nemo in rappresentanza della Svizzera. Angelina si è classificata settima dopo i voti ricevuti dal televoto. Un'esibizione che ha letteralmente infiammato il palco. La cantante già ai tempi di amici ha dimostrato di saper ballare oltre che cantare. Due caratteristiche che messe insieme rendono una performance assolutamente clamorosa. Subito dopo l'esibizione, un video postato proprio sul suo profilo ha emozionato tutti. Angelina dietro le quinte si è lasciata andare ad un pianto di gioia e liberazione. La tensione caricata in questi mesi è stata inevitabilmente molto alta, e la paura di non riuscire al meglio è diventata protagonista delle ultime settimane. Insieme al suo team ha festeggiato l'ottimo risultato raggiunto, ringraziando tutti per il lavoro svolto. La Mango è giovanissima ma questo rappresenta in assoluto il momento dai traguardi esilaranti. Vincere il Festival di Sanremo e partecipare in gara all Eurovision, sono due esperienze che hanno stravolto la vita della giovane artista. Dopo la serata di ieri i fan si sono scatenati. Approvazioni e milioni di complimenti per la sua esibizione. Anche i colleghi e tutti i protagonisti di Amici di Maria De Filippi, hanno condiviso nelle storie Instagram la performance e il codice per votare. Angelina è ormai entrata nel cuore di tutti, e questo è di sicuro solo l'inizio di un percorso artistico straordinario.